Musica 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 l'aeroporto del Caribe, se 1.7 milioni di passagero di Kingston su aeroporto di RECB, off RECB nel 2018, la prima cosa è garantita che il Norman Manley International Airport è in Kingston, Jamaica. Siguendo l'aeroporto, il popolo di modernizzazione, il primo ministro di Jamaica, il Honorable Andrew Holness, e arriva un mission per dentro del prossimo 20 anni, Jamaica viene il paese più moderno del Caribe. E' una generazione che ha beneficiato di un'eserroio, però è una generazione che non ha beneficiato di un'eserroio. E' una generazione che si tratta di un'eserroio, in un'eserroio di un'eserroio, in una forma come to do business in Jamaica. E' una generazione che per 40 anni, il paese non è invertito in infrastruttura, e non è invertito in comunità, con la data di 50 e 60. e' una generazione che fa l'eserroio di un'eserroio di un'eserroio di un'eserroio, però più 이러i rispetto ad addir cruciale. E' un'eserroio di un'eserroio di Monti demanda in hospitals, ma questo è stato un mese di 20 anni per raggiungere il paese. E questo è qualcosa di abbastanza ambicioso, perché è stato un mese di 20 anni, e questo è stato un sicuro di una maniera di mangiare il paese qui, perché è stato un mese di 20 anni lungo per la gobernazione di Jamaica. Ma questo è stato un mese di più, ma questo è stato un mese di Cile. Un'altra luna in Santiago di Cile è fuori di Apec, che è stato un mese di novembre. Un'altra luna in Santiago di Cile è fuori di Apec, che è stato un mese di 5-17 di novembre. Secondo il media outlet, c'è qualcosa di lamentabile a succedere, quando la conferenza e la conferenza, e il foro, ma l'Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, secondo l'analista, c'è la tensione tra America e China, che è stato un mese di due paesi, che è stato un mese di ultimo 18 luni, che è stato un deadlock per lo che tratta di trade. C'è stato un mese di avere diverse sancioni di importazione e exportazione a China. e c'è un'altra conferenza, che è stato un mese di 25 Conferences of Parties, che è stata la UN Climate Change Conference, che è stato un mese di COP25, che è stato un mese di luna in Dezembro, e che è stato un mese di cancellare. E questo è stato un momento di rinforzare l'importanza di cuidare il nostro medio ambiente, che è stato un mese di follow-up forum che è stato un mese di New York, che è stato un mese di settembre, ma la prima protesta di questo paese, il Presidente di Chile ha posposto il tour 2. Questo è il prossimo rapporto, di un news outlet The Guardian. Buongiorno! 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 As a Presidente di tutto i di chilali, ho sempre dei problemi, d'! 番 venire la filosofé coloured che? Le aspettiamo il territorio, le aspettiamo fer resistenza assеue, la esperanza in una amp 50%zza, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info în South Africa Is of course est acopertătoră I habito a noi La ultima notizia di Gesù, il Nobo Nobo, la prima notizia di novembre, ci sono diverse protestanti in quanto riguarda, ma spero che ci sia un costo in comune. La prossima notizia di NBC News, che è la prima notizia di quattro di noi. In Libanon, hundreds of thousands in the streets, the final straw, a 20 cent tax on the otherwise free messaging service, Whatsapp. In Baghdad, dissatisfaction after two wars. Neither left democratic economic values in place, culminating in a violent response from the government. More than 200 dead. In Chile, a 4% rise in subway fares was enough to bring a million people to the streets. Stores and subway stations torched. The government forced to declare a state of emergency. And in Ecuador, the end of fuel subsidies brought out the masses. The government unable to control the spread. Protests coordinated through social media. Around the world, these movements are growing. And they have certain things in common. The first is, these are grassroots movements. Movements without leaderships. The other thing is, it's the haves versus the have-nots. And the have-nots are taking to the streets in huge numbers, demanding economic reforms from governmental systems that seem braced against change. All are united against corruption and demand equal access to the economy. And each has its own momentum and spirit. Why are you out here? I'm out here because this is my country. And this is where I want to continue to raise, to hopefully establish my family here. I'm really connected to my culture and to my heritage. And I find Lebanon to be such a beautiful country, so diverse. Talk to me about that corruption. What does this economic corruption mean for Lebanon? This economic corruption means around really high percentages of unemployment, above 30% of unemployment. Me, as a current university student, I'm planning on traveling because I can't find a job here. And the ones who are getting hired are getting paid very minimal wage. While the cost of living is rising exponentially, and there's also fear of inflation, that the value of the lira is going to drop. And now the new stories are coming out about how specific politicians have been hiding money in other countries and have been hiding U.S. dollars in other countries. And this is affecting the poor people more than me. Why are you here? I'm here to change the situation in Lebanon, the corruption of the government, for a better future for us and for our children and for parents and for every Lebanese that lives in Lebanon and outside Lebanon. I'm not 20 years old yet. I'm only 18 years old. And I'm still already scared about my future in this country because I want to build here. I want to live here. I was born and raised here, and this is where I belong. If I'm going to university and there's no future for me to grow up in, then what am I doing it for? In Lebanon, a movement for now seemingly supported by the army. Bordering at times on a massive street party. In Iraq, artist Ahmed Shaki paying homage to The Joker, a film centered around unjust distribution of wealth, leading many to dub this The Joker Uprising. The movements have grabbed the attention of the two Democratic candidates for president most able to find common messages in their own campaigns. Senators Warren and Sanders, each throwing their support behind those in the streets of Lebanon, Warren flagging corruption both in the U.S. and abroad, Sanders calling for a, quote, global movement of and for working people. I would love for everyone in the U.S. to really see how peaceful this movement is. We have little kids here. We have people with their families. We have all types of religions. No one cares anymore where they come, what taia they come from, meaning what village they come from, where their family was. in the past and things that they care about right now. They all have the same goals. They want to eat. They want education. They want to live freely. There's nothing that's going to divide them anymore. They want to be united as one national item. They want to be united as one national item in the U.S. and they want to be united as one national item in the U.S. and they want to be united as one national item in the U.S. and they want to be united as one national item in the U.S. and they want to be united as one national item in the U.S. and they want to be united as one national item in the U.S. and in Latin America, it seems to be united as one national item. Il giorno della ultima luna di cui è stata una divisa con violenza contro le persone, questa vita di persone, violenza domestica, per certo, causa di vita di diverse persone, ragionanti, sin maiore, quindi sono sempre bai e tivi di casa qui, che sono una vittima. Possiamo pensare che abbiamo un bambino qui nella Corsau e in Carribe, e guardando qui non è parecchio, qui è stato 19, 1987, in America. Il nostro hobby è molto difficile di fare qualcosa di più, se non si vedono la situazione qui, ma non si vedono la situazione, ma non si vedono la situazione, ma non si vedono la situazione, ma non si vedono, ma non si vedono qualcosa, ma non si vedono la situazione, ma non si vedono la situazione, ma non si vedono la situazione a cui se vedono la situazione a cui un poverso sempre, e gli voglio, e il nostro hobby è oggi che è stato un poverso che amore di questo altro, e così vediamo, chiamo arecchi alla, Grazie a tutti i nostri amici 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 I see the pain Grazie a tutti i nostri amici 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 I nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Amici Grazie a tutti e Grazie a tutti Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti